In merito alle notizie di stampa uscite nei giorni scorsi relative alle indagini sui comuni di Perito e Orria, in cui sono coinvolti 11 tra amministratori e imprenditori locali e dove i sindaci di entrambi i comuni venivano interdetti per sei mesi dagli enti comunali, il sindaco di Perito Carlo Cirillo comunica che la sospensione della sua carica disposta dal prefetto della provincia di Salerno con provvedimento numero 146929 del 25 novembre 2020 è stato ritirato ieri 26 novembre con successivo provvedimento dello stesso prefetto. Carlo Cirillo continuerà quindi le sue funzioni di sindaco confidando pienamente nell'operato di magistratura e carabinieri.